Fin dai tempi in cui andavo a scuola, con gli abbonamenti all'Ataf, le elementari, le medie, l'università, me la sono fatta tutta da abbonato a Ataf. Devo dire che in genere, conoscendo anche il RTP, le assicuro che hanno un rispetto del proprio passato, perché siamo ora al tipo di servizio che svolgiamo e non si può non avere senso della storia di quel servizio per continuare a farlo anche nel mondo nuovo, anche nel mondo che cambia, con il rispetto di quello che è stato il nostro passato. Uno sguardo al passato, alla tradizione delle tante aziende che per decenni hanno gestito il trasporto pubblico nelle città toscane e tanti piani per far crescere ancora il servizio in futuro. A partire dal 1 novembre, tutti gli autobus urbani ed extraurbani della regione saranno gestiti da Autolinea Toscana, l'azienda controllata dalla francese RTP. Le linee, gli orari, le fermate e i prezzi non cambieranno, ma verranno introdotti nuovi canali e nuove modalità per l'acquisto di biglietti e abbonamenti. Il primo di novembre non è che ci sarà qualche cambiamento visibile. Il primo di novembre ci si contornerà a pigliare l'auto come si prendeva il 31 di ottobre, diciamo nello stesso modo, nello stesso posto, con gli stessi orari. Nel corso del tempo ovviamente via via che verificheremo le varie situazioni e che avremo qualche idea per migliorare le situazioni, ci lavoreremo.